ciao ciao a tutte allora mi vedete in questa insolita postazione che non è la mia solita dove faccio i video e sono passati quattro mesi circa da quando ho postato l'ultimo video con le mie creazioni in fimo scusate la voce ma sono raffreddata ho la tosse il male di stagione ma vorrei scusarmi perché ho trascurato il canale ma ho avuto degli eventi diciamo improvvisi che mi hanno purtroppo allontanata dai miei hobby adesso vi spiego meglio allora vabbè è passata l'estate ha fatto caldo quindi pochi video pochi lavori poi quest'estate ho passato un'estate molto brutta per quanto riguarda la salute e quindi non sono riuscita a fare niente lo stesso e comunque pensando di stare meglio andando avanti nel tempo ma così purtroppo non è stato e ho dovuto organizzare cioè organizzarmi proprio un cioè per salute non potevo farne a meno un intervento chirurgico ora questo intervento chirurgico è stato fatto sono 20 giorni che sono cioè che l'ho fatto l'ho fatto 2 gennaio e mi è anche dispiaciuto non avervi fatto gli auguri di natale di capodanno di buon anno insomma per tutto il 2018 quindi colgo l'occasione adesso siamo ancora nei primi 22 giorni di di gennaio quindi insomma può ancora andare bene e spero che che mi scusiate insomma oltre a questo intervento chirurgico diciamo che la mia vita è cambiata cambiatissima perché ho avuto l'occasione di andare a lavorare quindi dopo 44 anni io ho deciso ma avendo nell'occasione in famiglia di lanciarmi e andare a fare la tra virgolette segretaria d'azienda e una nuova esperienza io non ho mai fatto nulla di questo genere mi sono buttata la diciamo l'avventura mi piace molto perché lavorando comunque in un'azienda di famiglia si sta bene e quindi l'opportunità è stata diciamo che l'ho colta veramente naturalmente la decisione è stata dura nel senso che avevo sia l'intervento da organizzare sia che da imparare comunque un po di cose sul lavoro quindi ho detto speriamo che riesco almeno a lavorare a due o tre mesi e poi l'intervento insomma lo devo fare e lo faccio per quanto riguarda l'intervento vi dico subito che è andato bene tutto bene tutto a posto sono un intervento di routine di problemi di donne e quindi cioè io adesso sono venti giorni mi sono pure beccata l'influenza una settimana dopo che sono uscita dall'ospedale perché ero un po debole così e quindi pian piano sono a casa diciamo in in mutua in convalescenza e non ho fretta nel senso che mi devo rimettere bene prima di tornare a lavorare anche perché per tornare a lavorare devo fare dei chilometri tutti i giorni e quindi non è che posso insomma approfittare subito appena sento di sentirmi bene ma voglio proprio recuperare in toto tutta quella che è la mia salute ora per quanto riguarda naturalmente i miei hobby la vedo dura continuare a creare ma facendo un riassunto sul mio stato di salute e sul comunque l'impegno di lavoro che ho e andando avanti nel tempo e comunque sicuramente mi sentirò molto meglio e più in forze forse riuscirò a trovare il tempo anche per fare qualcosina adesso naturalmente in convalescenza mi stavo più che annoiando perché una cosa non la puoi fare l'altra cosa non la puoi fare c'hai i punti e ci sono le scale da fare mi sentivo stanca e le medicine da prendere insomma ho passato 15 giorni molto molto trafficati e duri ma io sono una roccia e quindi può darsi che magari riuscirò a a fare qualcosina e mettere sul canale e prima di diciamo cogliere l'occasione e decidere di andare a lavorare stavo lavorando appunto e ho già anche praticamente il video fatto di questo sto facendo uno challe come vedete con questo punto carinissimo e sto appunto facendo stavo facendo il tutorial e in pratica io sono arrivata al tutorial fino dove si può arrivare a farvi vedere perché poi i giri man mano vanno avanti sono sempre da ripetere comunque tre giri più due quindi sono cinque sono cinque giri da ripetere sempre e lo challe man mano si si allunga però adesso qua non sto a spiegarvelo perché ho già il video diciamo in cammino e spero di riuscire a finire lo challe in concomitanza con l'inizio del ritorno a lavorare e vi devo anche dire che qualche ora lavoro da casa perché comunque è un lavoro che posso anche seguire da casa però mi sono organizzata appunto a con computer telefoni e uncinetto in mano e seguo sia una cosa che l'altra e niente questo video mi faceva piacere farlo perché comunque a me dispiace di non essere cioè comunque a me fare i video mi piace e quindi in questo periodo che non li ho fatti ho sempre pensato cioè mi sentivo un po in colpa quindi niente vi saluto e spero che continuate comunque a seguire i miei progetti ce ne sono tanti già sul mio canale continuate a iscrivervi e niente perché tanto riuscirò io lo so che riuscirò a trovare il tempo anche per fare qualche video quindi niente mi farebbe piacere sapere cosa cosa ne pensate e niente io adesso vado avanti un po con l'uncinetto sono le 3.10 del pomeriggio sono da sola ho il cammino acceso cucinare ho cucinato cose da fare non ne ho troppe e non ne voglio fare troppe per non diciamo approfittare che sto un po meglio quella cosa che mi tormenta è la tosse e mal di gola ma domani vado dal medico perché è una già una settimana che prendo l'antibiotico e finalmente domani esco di casa dopo 15 giorni veramente sarà una festa una festa solo per andare dal medico e forse forse guido la macchina perché mi ha dato il permesso anche perché dopo l'intervento comunque nella posizione che sono che erano i punti ovviamente mi dà fastidio il movimento frizione e freno e acceleratore e anche stare seduta lì un po' piegata sul sul sedile della macchina ma voglio riprendere al più presto perché io stare sempre chiusa in casa mi potrei sclerare molto bene adesso io continuo con il mio lavoretto e appunto voglio voglio che mi vi saluto tutte e voglio che continuate a seguirmi e non pensate che vi ho abbandonate perché non è comunque un abbandono diciamo volontario ma è proprio per mancanza di tempo ma mi impegnerò per creare qualcosina di scorrevole insomma che riesco anche a fare di sera se non sono troppo fusa dai numeri e dai conteggi di tutta la giornata perché comunque stando via 12 ore di casa uno arriva e insomma la stanchezza c'è anche se sei seduto su una sedia davanti a un computer però comunque ci si stanca e magari adesso che sto meglio sarò meno stanca sicuramente poi magari andando nella bella stagione le giornate si allungano uno arriva a casa e riesce anche a fare qualcosina in più e niente va bene non mi dilungo più vi saluto a tutte vi ringrazio continuate a iscrivermi e alla prossima al prossimo video spero presto ciao